Per quanto possa sembrare ridicolo, è iniziato tutto per un Wi-Fi. Perché il Wi-Fi ha la capacità di unire mondi diversi. Ares Hidalgo. Una famiglia che, sebbene viva in una casa accanto alla mia, appartiene a un mondo molto diverso dal mio. Stai usando il mio Wi-Fi? Credi che non sappia che sei ossessionata da me? È la password, no? È quasi come scrivere... Ares Dio Greco. Non è il tuo vicino? Me l'aspettavo più alto. È un po' più simpatico. Sappiamo tutti che Ares non è interessato alle relazioni molto intime. Non sei il mio tipo. Sono la ragazza più interessante che tu abbia conosciuto. Mi piace questa nuova Raquel che esce per andare alle feste e frequenta il Jet Set. Non mi sono mai sentito così. Cosa provi per me? Ti piace davvero? Non mi serve il tuo aiuto. È un po' più simpelgo. Grazie a tutti. Ciao, mamma.